Eccoci alle prese con il Toshiba ZL1, il top di gamma di Toshiba, TV a LED con local dimming e tante funzionalità. Vediamo com'è il menu a schermo. Toshiba ha preparato un nuovo menu animato, molto fluido in animazioni, qui le vediamo. Un menu molto articolato, vediamo con le impostazioni, qui possiamo scegliere i vari ambiti. Andiamo nel menu immagine e qui abbiamo il classico invece il menu Toshiba, ricchissimo di impostazioni, qua vediamo alcuni dei controlli video classici, più due menu ironicamente chiamati uno impostazioni immagini avanzate e uno impostazioni avanzate immagini, probabilmente una traduzione un po' così. Nel primo menu avanzato abbiamo la regolazione dello spazio colore, se mettiamo su acceso possiamo regolare tutti i colori primari e secondari, possiamo regolare la temperatura colore, abbiamo il controllo della luminosità della retroilluminazione dinamica, acceso o spento, ma possiamo anche regolare il comportamento del sensore che regola la luminosità della retroilluminazione in funzione della luminosità ambientale. Se mettiamo professionale possiamo addirittura andare a modificare la curva punto per punto di come funziona il sensore. Abbiamo una slide per il controllo del gamma, i filtri di riduzione di rumore classici, più andiamo a vedere due algoritmi, in particolare il Solution Plus che è un sistema di miglioramento del dettaglio che abbiamo sia sulle immagini in definizione standard, sia sulla definizione che anche sulle immagini 3D e poi invece la classica interpolazione dei fotogrammi, questo ultimo è disponibile invece solo sulle immagini 2D e non anche sul 3D. L'altro menu invece sono ulteriori controlli, in particolare più avanzati ancora, possiamo applicare dei filtri RGB per andare a controllare la resa con solo dei colori primari, tutte funzioni che servono più che altro per autorizzare in combinazione con una sonda colorimetrica, ricordiamo che il TV può essere, offre tra le opzioni anche una sonda per la calibrazione automatica, qua vediamo sotto i parametri, la calibrazione del colore e del gamma. Oltre alle classiche impostazioni di sistema, tra cui abbiamo la definizione dei canali e così via, abbiamo le impostazioni 3D dove possiamo andare a regolare per la conversione da 2D a 3D, il livello di profondità praticamente dell'effetto della conversione, più il riconoscimento automatico del 3D e poi abbiamo anche addirittura le impostazioni di un pin di sicurezza che permette di proibire l'avvio del 3D, ad esempio se non vogliamo permettere ai nostri bambini di vedere immagini in 3D. Altra funzione interessante che vale la pena sottolineare è l'impostazione TV personale, perché il TV permette di creare 4 profili che possiamo richiamare al volo con tutte le nostre impostazioni, per cui se io voglio utilizzare un'impostazione e, non lo so, ad esempio, il nostro figlio vuole utilizzare altre impostazioni perché magari gioca alla console, eccetera, in questo modo possiamo richiamare i vari parametri di configurazione molto alla svelta. C'è il classico lettore multimediale che funziona anche come sia da chiavette USB o hard disk USB e riproduce praticamente tutti i formati video, oppure tramite server di RNA. Più interessante è andare a vedere invece Toshiba Places, che è praticamente la nuova piattaforma di Smart TV di Toshiba. In questo momento i servizi disponibili non sono tanti, c'è Dailymotion e Viewster e in un'altra pagina abbiamo visto YouTube. C'è un ambito social in cui possiamo andare a vedere, adesso è partito un filmato demo che vediamo qua sotto, possiamo impostare la casella di posta, Flickr e appunto la nostra account di Dailymotion. In questo caso l'interfaccia è un po' pesante, a dire il vero, e vedremo più in là quali servizi verranno aggiunti. Vale la pena selezionare Video Place, dove praticamente dovrebbero venire aggiunti appunto tutti i canali video e prossimamente, come abbiamo visto all'IFA, probabilmente anche uno store di contenuti video. Qui intanto vediamo dei film gratuiti già disponibili, di in realtà dubbio gusto. Comunque, questi ci sono. Vediamo come per fare le varie funzioni, molte volte occorre sempre un clic in più, in questo caso questo pop-up che ci conferma di uscire, che alla lunga può diventare anche un po' noioso.